La National Aviation School non è un sogno, è una realtà che insegna a volare verso il futuro. Cinque anni di studi tra teoria e pratica per diventare piloti, controllori del traffico aereo, fly dispatcher, fino al brevetto PPI. A garantire l'offerta formativa di alto livello, insegnanti selezionati e ambienti idonei per le esercitazioni, tra cui un aula volo con console interattiva in rete e schermi di controllo radar.